Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nella notte scorsa, un tragico incidente stradale ha segnato la fine prematura della vita di Luigi Chetta, un giovane di 29 anni, lungo la provinciale 129 che collega Sava a Torricella, nella provincia di Taranto. La vittima si trovava alla guida di una Fiat Idea quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo la sua corsa contro un muro di tuffi. L'impatto è stato così violento che non ha lasciato speranze di sopravvivenza al conducente. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante l'intervento tempestivo degli operatori del 118, i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le procedure di rilievo per ricostruire la dinamica dell'accaduto.